Signora Rosa, finalmente è uscita di casa. Sono scappata dopo tutte queste chiusure, queste cose, queste robe. Adesso dove ci vediamo? Il 16 di agosto? Ci vediamo all'Arena Tre Ponti, alla Chiarruccia di Fan, perché c'è il Codice della Cecca. Il Sangue Stato Show presenta il Codice della Cecca. La signora Rosa però, ahimè, non può venire perché oggi non è potuta venire. Si presenterà il 16 agosto perché è ancora chiusa il lockdown. C'è il nipote che è molto premuroso, tiene ancora la mascherina perché la signora Rosa non si fida di... Non si fida, non si fida ancora. Dov'è la signora Rosa in questo momento? È chiusa, è chiusa in bagno dall'8 marzo. Dall'8 marzo è chiusa dentro... La casa è piccola, la casa è piccola e la stanza per la Rosa. La gente è mormora e lei rimane chiusa in bagno. Ma come sta in questo momento? C'è dal parrucchiere c'è più andata? No, 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 non è tutta avvolta nel suo pelo, è tutta... È come nel suo pelo. Un bozzolo, un bozzolo. Un bozzolo. Vabbè, volevo dire che Jeffrey, che voleva dire qualcosa sullo spettacolo del 16 agosto da non perdere. Il Codice della Cecca con Rosa della Cecca. Jeffrey, cosa volevi dire di questo spettacolo? Che lui è il regista, loro due sono i protagonisti e io da spettatore vi dico che il 16 agosto ci sono tantissime cose da fare. Ma perché andare a vedere questo spettacolo? Fate... ma no, ma potete fare qualsiasi cosa. È estate, le giornate sono ancora lunghe, quindi... Tranquillo, potete fare qualsiasi cosa. È in sicurezza l'Arena BCC? È tutto in sicurezza, tutti la mascherina, tutti lavelle mantra, quattro volte a serata, è tutto perfetto. Tutti distanti, sono tutti quanti a distanza. La distanza è quella che c'è da essere, quindi non sentirete la puzza della scella di nessuno, quindi va tutto bene. Signora, una grande serata il 16 agosto, il febbra agosto con Rosa della Cecca. E Daniele Santinelli. Che parla e presenta. E c'è anche Massimo Paglioni, ci vediamo il 16 agosto. Alla grande! Ciao belli!